Ben trovati con il nostro Legal Corner, parliamo di lavoro ma soprattutto di mercato del lavoro che sta profondamente cambiando. Oggi più che mai si è alla ricerca di un equilibrio tra la vita privata e quella professionale e questa ricerca di equilibrio porta e sta portando davvero la discussione a concentrarsi sulla possibilità di avere una settimana lavorativa corta, quindi passare da una settimana standard di cinque giorni a una settimana appunto un po' più breve. Secondo qualcuno potrebbe davvero migliorare da una parte la competitività, dall'altra parte il benessere di dipendenti e lavoratori. E allora noi ne parliamo cercando di capire quali vantaggi e svantaggi ci possono essere, ne parliamo con il nostro esperto, l'avvocato Luca Failla, Managing Partner, studio legale. Failla, ben trovato avvocato. Ben trovati, ben trovati, è piacere di approfondire questo tema, effettivamente molto caldo perché devo dire che dopo gli accordi di cui tutti hanno parlato, hanno dato, come dire, conto, gli accordi Lamborghini e Luxottica sulla settimana corta, ha iniziato questo approfondimento perché ovviamente di settimana corta si parlava già, non è una novità assoluta, si è parlato perché poi a valle della pandemia il remote working, questo tema era già stato in qualche modo visitato e affrontato dalle aziende, ma mai, e questa è la grande novità, mai per aziende di produzione, manifatturiere come Lamborghini, Automotive e Luxottica che conosciamo tutti. Fino ad oggi la settimana corta era stata praticata, tra virgolette, più nelle aziende del terziario avanzato, assicurativo, istituti di credito, laddove il di solito giorno perso, tra virgolette, quindi il venerdì normalmente, ma non necessariamente, veniva in qualche modo recuperato durante la settimana, quindi con una sorta di allungamento, spesso di allungamento della mezz'ora sulla giornata lavorativa standard, quindi in realtà il salario rimaneva uguale, ma la giornata risparmiata veniva in qualche modo recuperata, molti accordi vanno in quella direzione. La novità qui è che per la prima volta si applica la settimana corta nel settore della produzione, dove molti dubitavano della possibilità di applicare questo modello, si diceva sì bene i servizi, perché puoi lavorare da remoto, tutto sommato, ma della produzione, dove ci sono le linee produttive, la catena, come fai? E qui ci dicono, questi accordi ci dicono che si può fare e ce lo dicono due aziende piuttosto significative del panorama italiano e credo che sia una grande, grande novità su cui riflettere. Il meccanismo su cui questi accordi hanno introdotto il modello in via sperimentale della settimana corta, è un meccanismo tutto sommato semplice, su 50 settimane si decide che 20 settimane, che 30 settimane rimangono con l'orario standard e con la turnazione originaria, quindi sui 5 giorni lunedì e venerdì, mentre 20 settimane vedono ridotto il giorno e quindi la settimana finisce il giovedì e quindi il venerdì è il giorno libero, tra virgolette, il tutto ovviamente a parità di salario, questo va detto, quindi è grande 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 elemento, a parità di salario si lavora di meno. Il tema è si lavora di meno e si produce di meno o si lavora di meno in termini di ore e si produce di più o si produce non meno di quanto si producesse prima rispettando la turnazione dei 5 giorni? E questa è la sfida, questa è la grande sfida e la sfida di questi accordi che vedono introdotto la settimana corta in via sperimentale, quindi per una platea iniziale di qualche migliaio di lavoratori su base volontaria, quindi con l'adesione dei lavoratori, non potrà essere imposto questo modello ma dovrà essere, come dire, accettato dai lavoratori che aderiranno in via sperimentale a questo nuovo modello e questa è la grande sfida, quindi a parità di salario si riducono le ore di lavoro ma si produce probabilmente non meno di quanto si producesse prima o di quanto si produca all'interno della turnazione dei 5 giorni, questa è la sfida, quindi è chiaro che si introduce una variabile importante in questi accordi che è il rendimento, che è l'accordo sulla produttività, che è l'accordo sulla garanzia di produttività attesa, perché è questa la parola chiave, abbiamo capito tutti, devo dire, dalla pandemia in avanti che il tempo, con l'aumentare del tempo non necessariamente aumenta la produttività e l'efficienza del lavoro o della produzione e quindi il tempo non diventa più la variabile su cui misurare la produttività, tante ore lavori tanto ti pago, più ore lavori più ti pago, puoi anche lavorare di meno e io ti pago uguale a condizione che nel minor tempo di lavoro mi si venga garantita a me, azienda, d'attore di lavoro, un rendimento atteso non inferiore ad uno standard che andremo a negoziare, a contrattare e questa è la sfida ed è una sfida interessantissima, è una sfida interessantissima perché normalmente quando si parla di diritto del lavoro si fa fatica a parlare di rendimento, noi abbiamo i premi di produzione e i premi di produttività, se produci di più ti pago, ma se produci di meno in realtà non c'è una diminuzione, un effetto sulla salario, neanche qui con la settimana corta ci sarà un effetto negativo sul salario che rimarrà uguale, ma ci sarà sicuramente da parte dell'organizzazione sindacale e da parte del datore di lavoro un monitoraggio sul rendimento prodotto e sul rendimento atteso anche nella settimana di minore giornate lavorative. Ovviamente si tratterà di monitorare questo processo, di monitorare il processo anche sulla base dell'andamento di applicazione dell'accordo nei prossimi mesi, facendo anche una media, quindi tot sarà la produzione nei 5 giorni di lavoro e tot altra sarà la produzione nei 4 giorni di lavoro. La media dovrà dare complessivamente un risultato che sia in linea con le aspettative dell'azienda e a questo punto l'azienda garantirà, ovviamente sarà disponibile a garantire un salario identico a quello precedente con una minor quantità di ore lavoro per i lavoratori. Ovviamente tutto questo va nella direzione auspicata dalle aziende e dai lavoratori dell'organizzazione sindacale, una maggiore work-life balance come veniva ricordato in apertura, una sperimentazione e ci dice una cosa importante, lo dice non solamente alle aziende della produzione, ma lo dice a tutte le aziende italiane. Uno, non abbiamo bisogno di nuove leggi, questi accordi si fanno sulla base delle leggi esistenti e qui occorre e basta la sperimentazione e la buona volontà da parte dell'azienda e delle organizzazioni sindacali. Due, per fare sperimentazione occorre coinvolgere le organizzazioni sindacali su dei progetti chiari e vincenti anche nell'interesse dei lavoratori. Tre, occorrerà monitorare l'andamento di questi accordi e monitorando anche la soddisfazione dei lavoratori che aderiranno a questi accordi. Quindi direi un ottimo inizio, un ottimo inizio e una via tracciata non solo per queste aziende, ma per tutte le altre aziende che vorranno, come dire, approfittare di questo spazio lasciato alla contrattazione collettiva. Grazie. Grazie.